l'apertura da fango, pioggia e vento. Ed è Mancini che propone questo tiro per pari e para il portiere della Roma Tancredi. Poi avete visto un tiro di Pellegrini, ha respinto Tancredi, ha ripreso Brighi e ha mandato il pallone alle stelle. Attenzione a Mancini, tira di destro, bella la deviazione di Tancredi su un pallone che era viscido e quindi poteva sfuggirli. La Roma ha fatto questa sola occasione da rete, ma Giannini si è aiutato con la mano ed è stato ammonito dall'arbitro. Poi, sempre nel primo tempo, Brighi, gran bella conclusione, conclusione che precede di pochi minuti l'espulsione di Cerezzo per un fallo nel confronto di Maffredonia. E siamo passati a secondo tempo da Mancini a Vialli che manca l'aggancio di un facile pallone, quindi la Roma con Boniek e ancora Giannini, ma Bistazzoni anticipa con una bella uscita. ed infine, lo vedremo da qualche istante, sul calcio d'angolo di Mancini, prima Mannini e poi Vierkowitz tentano di realizzare, ma non ci riescono.